Portatene un po' con voi nel caso potrebbe servirvi, no? Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Faccio qualche premesso confessione prima di partire, amo Alien di Scott, apprezzo Aliens di Cameron, il resto del franchise ho seguito ma non ho mai trovato qualcosa che arrivasse al livello dei primi due, soprattutto del film di Scott. E se parliamo invece di Fede Alvarez, ecco, Don't Breathe mi era piaciuto in sala, almeno fino a quando non hanno pensato di avere quella bella idea per sorprendere il pubblico, spostando la bussola morale in modo indecente e facendo diventare un villain l'uomo che era la vittima. La sua versione di Evil Dead invece non la riguarderei nemmeno per sbaglio. Ma sono opinioni mie? Ora, ero quindi piuttosto titubante nel decidere di spendere soldi, soprattutto tempo per l'ennesimo film di questo franchise, un film prodotto da Scott, che sembra non volerlo più mollare e diretto appunto da Fede Alvarez, regista per cui non ho propriamente un'ammirazione tale che mi spinga a correre in sala per vedere qualcosa di suo. A ogni modo starò nella zona no spoiler come premesso in copertina, perché il film è fresco fresco e starà in sala ancora per un po' e forse voi dovete ancora vederlo. La storia, dopo un'introduzione che ci servirà più tardi, parte circa 20 anni dopo le vicende della Nostromo e ci porta su un pianeta minerale della Weyland-Yutani, dove Rain, la nostra protagonista, si vede stendere il contratto con la compagnia. Questo significa per lei rimanere ancora sul pianeta e lavorare nelle miniere. Rain è orfana e vive con un android di nome Andy, che considera un fratello, che era stato in qualche modo riparato dal padre, ma che ha comunque dei grossi problemi. E proprio mentre Rain si sta rassegnando a rimanere ancora su quel pianeta, arriva un suo ex che le propone un piano per andarsene da lì. Insieme a un gruppo di amici intendono arrivare su quella che in principio credono un'astronave abbandonata, in orbita intorno al pianeta, per cercare le capsule di Stasi e usarle per andarsene verso lì di migliori. Rain da prima è riluttante, poi guardandosi intorno e vedendo che le prospettive di rimanere lì sono peggiori di quelle di magari finire in gatta buia, accetta e si accoda al gruppo per andare a recuperare le capsule su quella che si rivela essere una stazione di ricerca abbandonata, o quasi. Queste in pratica sono le premesse di Alien Romulus e non vi ho detto nulla di ciò che non avete già visto nel trailer. Ovviamente ci hanno anche detto che la stazione Romulus è infestata da Facehugger e quindi sappiamo che combinando i Facehugger con gli umani si ottengono degli xenomorfi. Il trailer ci prometteva di tornare alle atmosfere claustrofobiche del primo film, con un gruppo di persone che non possiamo definire propriamente militari, intrappolate in uno spazio ristretto e costrette a fronteggiare le note creature. Ora, partiamo dai pregi. La produzione ha fatto una scelta riguardo le scenografie e la rappresentazione delle tecnologie molto, molto, molto apprezzabile. Perché sono coerenti con quelle viste nell'Alien di Scott. Quindi, monitor che ricordano i cattodici, lucette suoni dei nostri anni settanta, eccetera eccetera. E hanno usato per buona parte anche effetti pratici invece della CGI, altro punto a favore del film. Sul versante dei personaggi Andy, l'androide difettoso di David Johnson, è sicuramente quello meglio riuscito e interpretato. È difficile definirlo, perché diciamo che è un androide che non segna l'ora esatta, capite? Usare altri termini al giorno d'oggi è impossibile, soprattutto la parola con la R. Ma Andy è quello, un androide che non arriva in orario. Questa rappresentazione di una macchina difettosa è molto efficace e ha dato spunti narrativi che potevano essere sfruttati meglio. Anzi, avrebbero meritato di essere sfruttati meglio, perché i pregi del film finiscono qui. Sì, anche Kelly Spaney è in parte e restituisce una buona interpretazione, nonostante non abbia materiale su cui lavorare in realtà. E lasciatemelo ripetere, perché nessuno del HBO ha pensato di prendere in considerazione per The Last of Us, dopo Civil War ho visto moltiplicarsi i post di gente che si è posto allo stesso opposito? A ogni modo, dicevo, Kelly è un'attrice talentuosa, ma non ha avuto chissà quale materiale su cui lavorare per questo film. Perché? Direte voi. Prima di affrontare questo aspetto e i difetti che ha, a mio avviso questo film va detto che sta dividendo i pareri in modo piuttosto netto, da quello che vedo. Ho avuto anche l'impressione che Disney abbia deciso di investire su due fronti questa volta, almeno per il lancio, visto che critica e pubblico sul noto aggregatore dei pomodori sta andando di pari passo, mentre se uscite da quella bolla la narrazione è leggermente diversa. Alien Romulus è un film di questi anni, non è un film di fine anni 70. Usa la ricetta di oggi, è chiaro, la stessa ricetta che viene impiegata per i film del nostro genere innominabile preferito. Perché è in quella direzione che punta Alvarez, allontanandosi un po' dalla fantascienza per tornare all'altro genere e renderlo più vicino al film di Scott. Ma lo fa appunto con la formula degli anni 2000, dell'epoca degli short, dei tic e toc, dove la soglia dell'attenzione è così ridotta che bisogna partire in media res e tenere sempre stimolato il pubblico. Non c'è il tempo di costruire qualcosa, di strutturare la narrazione per portarci magari a una seconda parte esplosiva dopo una prima fatta appunto per prepararci a quella. Ci presentano così in fretta i personaggi che a fine film alcuni li avevo pure dimenticati. Non sappiamo chi siano, fatta eccezione per Rain e Andy. Sappiamo che sono intrappolati come l'è su quel pianeta minerario e vogliono andarsene. Oltre a quello abbiamo solo accendi delle loro mutilazioni, del loro carattere, dei loro pregi e difetti. Sono quasi intercambiabili. E un aspetto che molti hanno criticato è che sono giovani. Sì, l'età media non raggiunge i 30. La stessa spegne a 26 anni, oggi, ma ne dimostra molti meno. A ogni modo, se in Alien avevano personaggi vicini ai 50, altri di poco oltre i 40, con una Ripley trentenne, qui abbiamo un gruppo di universitari che vi aspettereste di vedere da Starbucks a bere un matcha latte più che su un pianeta minerario. Ecco, il paragone che viene fatto con l'equipaggio della Nostromo e questi ragazzotti è forse scorretto. Nel senso che sulla Nostromo abbiamo visto un vero e proprio equipaggio di professionisti, con una nave della compagnia da gestire. Questi sono alcuni giovincelli che non hanno molte prospettive e si raggruppano per fuggire dal pianeta dopo una missione che mettono in piedi autonomamente. Ed è naturale, visti i tempi in cui viviamo e la compagnia che ha prodotto il film, nonché una certa propensione di Alvarez per questo tipo di cast, di vedere dei personaggi anonimi in CPD che sembrano provenire dalle strade di Beverly Hills e che vengono sbattuti in un trittacane dopo pochi minuti di film. Esattamente come in buona parte dei film del genere innominabili di oggi. L'ho detto in svariate occasioni, questo è ciò che vediamo in molte pellicole Blumhouse similari, dove i personaggi sono segnalini che gravitano intorno alla protagonista, che ci vengono presentati in maniera superficiale e che servono solo come agnelli sacrificali. Alien Romulus coincide esattamente con i film del genere che girano oggi, jumpscare compresi, ma è ambientato nell'universo di Alien con frequenti omaggi, se così vogliamo chiamare, e member berries, talvolta assurdi ed evitabili. Insomma, per esempio, abbiamo visto androidi convolti diversi nel franchise. Perché dover ricorre al deepfake e all'intelligenza artificiale per riportare sullo schermo quello interpretato da un attore purtroppo scomparso? Tra l'altro, realizzato parecchio male, eh? Ma insomma, questo Alien Romulus è consigliato? E soprattutto, è infuso di ideologia come spesso accade in questi tempi? Ora, Alvarez è un furbastro. I contenuti ci sono, ma sono passati sotto traccia. Sono quelli che vedete con la cosiddetta coda dell'occhio, li percepite, ma non sono rappresentati con la solita freccia e neo nella sfacciataggine di oggi. Potreste non accorgevene, ma ci sono, perché Alvarez è un altro di quei pavidi registi che sanno che devono poggiare almeno un ginocchio a terra, soprattutto quando c'è Disney di mezzo per poter lavorare. Ma ripeto, potreste non farci caso, soprattutto perché, beh, perché il film non vi dà il tempo per accorgervi di nulla, di riflettere, come non lo dà ai protagonisti? Come dicevo, c'è troppa ugenza di stimolare il pubblico per paura che parli di noia, di lentezza e che si distragga guardando lo smartphone. Avrete forse 10 minuti esagerando 15 all'inizio per studiare ciò che vedete sullo schermo e poi tutto si trasformerà in una montagna russa. C'è qualche momento per creare tensione? Sì, ma è altamente prevedibile l'esito. E se non è il primo film che vedete in vita vostra saprete esattamente cosa succederà. Insomma, Alien Romulus piacerà di sicuro in una fascia demografica, quella che ha mai i film molto movimentati, con qualche jumpscare, con i personaggi bidimensionali inseriti solo per body count e che darà a loro l'impressione di aver svecchiato il franchise, grazie anche all'età bassa dei protagonisti e il loro linguaggio che assomiglia a quello di oggi. Potrebbe invece deludere un'altra fascia demografica, quella che aspetta da tempo che il franchise torni a risplendere e non sia solo un giocattolo senza anima con riferimenti e omaggi ai primi due. Forse è eccessivo l'apprezzamento mostrato, come forse lo è il giudizio del polo opposto, dove alcuni dicono di averlo odiato. Io trovo difficile odiarlo, perché non si può odiare qualcosa che risulta blando e insipido e che necessitava di un po' di sale, quello di cui parlavo in apertura. Alien Romulus inizia a correre per tutti i 120 minuti circa che lo compongono per arrivare a una serie di finali, sì anche questo è un aspetto che dovrete accettare, cercando di farvi tenere gli occhi lontani dallo smartphone. In conclusione, l'ho amato, l'ho odiato, nessuno dei due. Ho solo sperato più volte che fossimo arrivati alla fine. Ma una volta uscito dalla sala ho avuto la certezza che io, ripeto, io, lo dimenticherò entro la fine di questo 2024, come ho fatto con altri del franchise o con altri film strutturati in questo modo. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere rimasti fino a qui e se vi è piaciuto questo video considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima! Perché non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Cale il sipario, si accendono le luci e usciamo dalla sala.